Buona domenica, il tema del video di oggi sono gli stimoli. Non parlerò di cacca per una volta, ma parlo proprio degli stimoli vitali. E faccio una riflessione ad alta voce con voi per cercare appunto di potervi stimolare nel fare azione. Io mi chiedo come si possa vivere una vita senza stimoli, una vita senza cambiamenti, una vita senza porsi degli obiettivi e cercare di raggiungerli e superarli. Io mi rendo conto di essere una persona ipercinetica, di essere una persona troppo movimentata, troppo, come dire, vittima, troppo dipendente dagli stimoli. L'idea di cercare già un'altra città, un altro stato dove andare a vivere è una. Penso di chiudere il ciclo dubaino alla fine di quest'anno. L'idea di continuare a creare nuovi business, a creare, ad aprire nuove sfide nell'ambito della mia attività lavorativa è un'altra cosa che mi toglie il sonno. L'idea di migliorare sempre di più il servizio che io do ai miei clienti è un'altra cosa sulla quale lavoro ogni giorno. Nonostante, di contro, io sia abbastanza autistico nelle mie abitudini. E mi spiego. Mi alleno sempre allo stesso orario, faccio sempre, ho sempre una routine, ma non perché io voglio avere una routine quotidiana, perché mi fa star bene sapere di fare colazione in un certo tipo in un certo modo e più o meno un certo orario, avere i pranzi, le cene, la mia cadenza giornaliera sempre allo stesso orario. E devo dirvi la verità che come i bambini, quando questa programmazione mi viene scombinata, divento isterico. Sarà per questo che non ho nessuna persona con cui condividere la mia vita? Sì, perché non è facile starmi accanto. Ma torniamo al senso di questo video. Io conosco moltissime persone, non solo direttamente, ma anche indirettamente da clienti, da gente che viene in consulenza con me, che vive una vita piatta, vive una vita senza stimoli. Nel video che ho fatto ieri vi ho parlato e vi ho accennato di persone che nascono e muoiono sempre nella stessa casa, che fanno un lavoro e vanno in pensione con quel lavoro, che hanno sempre lo stesso taglio di capelli, sempre lo stesso colore, che vestono sempre e solo allo stesso modo, che ogni domenica cascasse il mondo vanno a mangiare a casa della mamma o a casa della suocera. Allora queste possono sembrare delle banalità, possono sembrare delle abitudini di vita che riguardano il 90% forse delle persone. Però se voi ci fate caso, la gente si abitua, questa diventa una comfort zone e quindi siccome l'essere umano si abitua facilmente alle cose belle e alle cose brutte, ecco che io dico che si sopravvive. Provate voi a comunicare anche per finta. Oggi vi sedete a tavola a pranzo e dite sai ho deciso di rasarmi a zero, oppure sai ho deciso che io mi cerco un nuovo lavoro. Comunicate il desiderio di un cambiamento, dal più semplice a quello che comporta impegno e comporta uno stravolgimento di vita. Guardate lo sguardo, l'espressione, la reazione della persona a cui lo state comunicando. Fate un test, vi renderete conto come saranno veramente poche le persone dai che bello raccontami e che magari vi dicono la vostra. Il 90% delle persone vi diranno ma che cazzo dici? Ma chi cazzo te l'ha messa in testa questa cosa? Mai bevuto? Ti sei drogato? Eccetera eccetera. Questo perché? Perché le persone stanno bene nel loro alveo, stanno bene nel loro mondo, stanno bene cercando sicurezze e quindi la sicurezza viene dal pranzo domenicale a casa della mamma o della suocera, dal fatto di vivere in una città dove si è conosciuti e riconosciuti, quindi vai sempre nella stessa pizzeria, ordini sempre la stessa pizza, vai sempre nello stesso negozio di abbigliamento, fai sempre le stesse cose per tutta una vita. Non vi sembra un po' triste questo? Allora io non dico che dovete cambiare stato come me ogni anno e mezzo, ogni due anni, città, casa, amicizie, lavoro eccetera. No, però provate a dare uno scossone alla vostra vita, provate a reagire. Perché le persone vivono una vita coniugale ad esempio di relazione e poi sono iscritte su Tinder e poi chattano su Instagram, su Messenger, su Facebook e quant'altro? Perché comunque sopravvivono anche in un rapporto di coppia e cercano in qualche modo altrove quella boccata di ossigeno, cercano altrove quella sferzata di adrenalina che ormai il piattume della vita quotidiana regala. Perché non cambiano? Perché non seguono l'emozione? Perché non vogliono viversi a pieno un rapporto. Perché significa uscire dalla comfort zone, significa mettersi in gioco, significa rischiare, significa fallire anche e allora si sta in quell'alveo che ci fa sentire comodi, tranquilli, con la morte nel cuore. Questo molto più banalmente, ma banalmente non lo è, ve lo ripeto più volte, accade anche quando volete decidere di prendere cura di voi stessi, quindi volete decidere di iniziare un cambiamento, un percorso di remise in form, volete cambiare il vostro stile di vita almeno dal punto di vista alimentare, dal punto di vista fisico e quindi molto spesso si creano degli attriti per una cosa semplicissima, per una cosa banale che dovrebbero fare tutti. Provate a pensare, se voi da persone sedentarie oggi comunicate, da domani io vado a fare 10 chilometri a piedi ogni giorno, anche se c'è la neve, il sole, la pioggia eccetera, provate a guardare la reazione e invece altrettanto provate a pensare, se voi comunicate, da domani devo prendere la cardioaspirina perché me l'ha detto il cardiologo, va tutto bene, anzi vi monitoreranno, se l'hai presa, mi raccomando non saltarla eccetera, perché nella mente delle persone è più semplice, è più facile, si è sempre fatto così, è meglio prendere un farmaco piuttosto che cercare di migliorare la propria condizione di vita e di salute attraverso altri metodi. Quindi il messaggio che voglio farvi passare oggi qual è? Cercatevi stimoli positivi, cercate nuovi obiettivi che vi facciano sentire vivi, che migliorino la qualità della vostra vita e anche quella di chi vi sta attorno. Fatelo, non sopravvivete. Buona domenica.